Benvenuti, questa videoguida vi darà indicazioni per raggiungere la sede di acustica online di Agnano. Superato il casello di Agnano Terme, alla rotonda, svoltate a sinistra. Proseguite su via Agnano Agliastroni per 500 metri, fino al semaforo. Lungo la strada troverete la segnaletica che vi indicherà il percorso da seguire. Vi ricordiamo che, oltre allo showroom di via Scarfoglio, ci trovate anche al centro storico di Napoli, in via San Sebastiano. Acustica Online, dal 1987, mette in gioco l'esperienza di musicisti e specialisti appassionati del settore, per offrire ai clienti una consulenza professionale. Qui troverete un'ampia gamma di strumenti ed accessori, selezionati tra i migliori brand sul mercato nazionale ed internazionale. Giunti al semaforo, svoltate a destra su via Edoardo Scarfoglio. Dopo 400 metri, sulla sinistra, troverete l'insegna di Acustica Online che vi indica l'ingresso del viale per raggiungere il negozio. Vi ricordiamo, inoltre, che è disponibile un ampio parcheggio gratuito. Vi aspettiamo per realizzare i vostri sogni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.